Ah no, non credo. No no no, aspetta, piano Vasco, piano, piano, piano. Dai Banni, gioca con Vasco, fammi vedere. Ah, vuoi mordicchiare? No, allora è il loro modo di giocare, sì sì. Anche loro due, sembra due coccodrini, Masch e Femmina, quando giocano. Poi alla fine non si fanno niente. Chi è, chi è? Chi è Banni, chi è? Temerano. Chi è Vasco? Vai da Vasco. Cos'è, non l'hai mai visto? È nuovo per te. Opla, grazie mille. È nuovo Vasco. Andiamo, andiamo Banni, dai. Ti sei fatto un amico. Dici, quando volete. Grazie a tutti. Grazie a tutti.